E rieccoci in studio per la terza parte del TG Live. Vi portiamo in Costa Smeralda. Si è svolta sabato scorso a Porto Cervo la cerimonia di proclamazione di vincitori del premio Costa Smeralda 2023. Per noi c'era Daniela Stara. Sabato scorso il Conference Center di Porto Cervo ha ospitato la seconda edizione del premio Costa Smeralda 2023 promosso dal Consorzio Costa Smeralda presieduto da Renzo Persico e patrocinato dal Ministero della Cultura, dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Arzachena. Nel corso di una cerimonia sono stati proclamati due vincitori assoluti delle categorie premiate narrativa e saggistica. La scrittrice Valeria Parrella con la fortuna, edito da Feltrinelli, si è giudicata il premio narrativa, mentre il premio saggistica è andato a Teresa Cremisi per il suo Cronache dal Disordine. Assegnati anche tre riconoscimenti speciali, lo scrittore francese Manuel Carrer ha ritirato il premio internazionale. Il celebre divulgatore televisivo Mario Tozzi ha ricevuto invece il premio Cultura del Mediterraneo per il suo ultimo libro, Mediterraneo inaspettato, la storia del mare nostro, raccontata dai suoi abitanti. È un premio bellissimo, sono molto orgoglioso di questa cosa, di aver insieme con questi altri personaggi straordinari, ma scusa, sono davvero orgoglioso. Poi per il Mediterraneo, anche un po' per la Sardegna, sai che io ci vengo sempre, faccio una trasmissione, dunque sono veramente molto contento. Mentre il premio speciale è stato assegnato allo stilista algherese Antonio Marras. È un'emozione pura, c'è chiaramente un imbarazzo che è quello che mi accompagna sempre in queste occasioni, anche perché c'era un parterre di straordinarie eccellenze e io come sempre mi sento inadeguato. Però voglio ringraziare tutti e soprattutto Stefano Salis che è la giuria che ha pensato di darmi questo premio e che dimostra che ogni tanto qualcuno è profeta in patria. Durante la cerimonia di premiazione affidata alla conduzione della giornalista Roberta Floris, molta soddisfazione è stata espressa nelle parole di Renzo Persico, presidente del Consorzio, che ha definito il premio Costa Smeralda come uno degli appuntamenti di qualità e di eccellenza del panorama nazionale e internazionale. Sarà l'attrice sarda Caterina Murino a condurre le serate di apertura e chiusura dell'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia diretta da Alberto Barbera. La cerimonia di inaugurazione si terrà mercoledì 30 agosto sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema Lido e quella di chiusura invece sabato 9 settembre in occasione della quale saranno annunciati i leoni e gli altri premi ufficiali della mostra. Torna anche quest'anno il Festival Sant'Arte, nato da un'idea dell'artista Sardo Pinuccio Sciola, realizzato dalla fondazione che ne porta il nome. Quattro giorni d'arte, di dibattiti e spettacoli tra Cagliari, San Sperate e l'aeroporto di Elmas. Il servizio di Mauro Lotto di UTG. Arriva la sesta edizione Sant'Arte, il grande festival palcoscenico nato da un'idea di Pinuccio Sciola che accoglie artisti visivi e performativi in stretto dialogo con la comunità e l'ambiente. In programma, dal 25 al 28 maggio, una fitta rassegna di eventi tra Cagliari e San Sperate. Il tema scelto per quest'anno è la nuova natura, il cui rapporto ha da sempre permeato il pensiero di Sciola e lo ha accompagnato in tutto il suo processo creativo. Tutto parte da un'opera incompiuta dell'artista originario San Speratino, intitolata Era una foresta, che rappresenta una natura bruciata ma che suggerisce la possibilità di rinascita grazie alla visione dell'arte. Pinuccio Sciola credeva fortemente che l'arte è l'unica cosa che può salvare l'uomo dall'appiattimento mentale. Credeva nel confronto, nello scambio e nella condivisione. Il festival consente proprio un'occasione di confronto e quindi di arricchimento emotivo. Un'eredità artistica ma anche umana, quella di Pinuccio Sciola, che gli stessi figli vogliono condividere con tutti i sardi. Il nostro padre ha lasciato a noi da custodire, da proteggere, ma che non è un'eredità mia e dei miei fratelli. È un'eredità sicuramente di tutta la Sardegna, diceva, la più bella scultura al centro del Mediterraneo, ma non solo, un'eredità del mondo, un'eredità materica, filosofica, colma di grande rispetto. Il rispetto che Pinuccio Sciola aveva per la natura, per le persone e per l'uomo. E adesso ritorniamo in Costa Smeralda, al Via, alla dodicesima edizione del Porto Cervo Wine & Food Festival. La prima giornata domani sarà dedicata esclusivamente agli operatori del settore. Taglio del nastro invece in programma venerdì, con contestuale apertura al pubblico, delle degustazioni, e poi ci saranno talk show e anche momenti fuori fiera. Tre, le celebrità a completare la Kermess. Sentiamo. Sarà la popolare influencer e tiktoker da 9 milioni di follower, Elisa Maino, la madrina del Porto Cervo Wine & Food Festival, l'evento che apre ufficialmente la stagione in Costa Smeralda, con quattro giornate dedicate alle eccellenze no gastronomiche, tra talk show, drink d'autore e musica con DJ set. Il taglio del nastro inaugurale, venerdì 12 maggio alle 15, al Conference Center di Porto Cervo, segna l'inizio della dodicesima edizione dell'evento organizzato dall'Area Costa Smeralda, gestita da Merriot International per conto di Smeralda Holding. La perla del turismo del Nord Sardegna ospiterà anche due stelle del panorama musicale italiano, che incanteranno gli ospiti della cena di gara di sabato 13 maggio all'hotel Cala di Volpe. La nota cantautrice, Simona Molinari, è Nesli, cantautore e autore di successo. Le degustazioni dei migliori produttori wine e food si svolgeranno all'interno del Conference Center dall'11 al 14 maggio. La prima giornata sarà dedicata esclusivamente agli operatori del settore turistico ed enogastronomico, alle cantine, enologi, buyer e stampa specializzata. Mentre venerdì, sabato e domenica pomeriggio, dalle 15 alle 18, si svolgerà l'evento aperto al pubblico. Al Conference Center saranno presenti i magnifici 80, ossia 60 espositori di vino e 20 del food. Una delle grandi novità della dodicesima edizione del festival è rappresentata dagli eventi fuori fiera, una collana di appuntamenti glamour aperti al pubblico che si svolgeranno nei ristoranti dell'area Costa Smeralda. Spazio poi a interessanti talk show ideati dal coordinatore scientifico del festival, Alessandro Torcoli, sui cambiamenti climatici venerdì 12 alle 10.30 e sull'e-commerce sabato 13 sempre alle 10.30. I talk show che vedranno come i relatori, noti esperti del settore, si svolgeranno alla pergola in giardino, nella piazzetta di Porto Cervo. Sarà un originale omaggio ad un artista dalle mille sfaccettature. Quincy Jones a chiudere la ventesima edizione di Jazz Hop domenica 14 maggio. Al Teatro Verdi di Sassare andrà in scena la produzione con 90, un omaggio infatti ai 90 anni del musicista e produttore statunitense. Emanuele Lamozzo per noi. Musicista, compositore, arrangiatore, produttore discografico, cinematografico e televisivo, il suo lavoro gli ha fruttato 26 Grammy. E per Quincy Jones, conosciuto al grande pubblico soprattutto per aver prodotto l'album più venduto dalla storia, Thriller di Michael Jackson, e la canzone evento We Are The World, il concerto omaggio che domenica 14 maggio al Teatro Verdi di Sassari chiuderà la ventesima edizione della rassegna di produzioni originali Jazz Hop organizzata dall'Associazione Blu Note e Orchestra in collaborazione con Teatro Sassari che finora ha registrato un grande successo nei due precedenti spettacoli, protagonisti il trombettista Franco Ambrosetti e il cantante David Lynx. Con la produzione Q90 l'Orchestra Jazz della Sardegna celebrerà i 90 anni del compositore nato il 14 marzo del 1933 a Chicago proponendo una serie di brani che ripercorrono la multiforme attività di Jones nei suoi 70 anni di carriera. Ha coperto tutti i generi musicali, Can Besi, Frank Sinatra, Ray Charles, Michael Jackson, ai rapper, alla discoteca, alla musica per cinema, alla tv. Questo progetto prevede otto suite scritto appositamente per l'Orchestra Jazz della Sardegna da Marco Tiso che per l'occasione sarà anche direttore d'orchestra, prevede anche due solisti quali Francesco Lento alla tromba e Massimo Carboni al sax tenore. Come sempre Jazz Hop proporrà un doppio spettacolo alle 11 e alle 19. E ora lo sport, grande festa oristano per l'amichevole tra la Tarros e il Cagliari di Claudio Ranieri. Davanti a oltre 1500 persone, il Rosso Blu hanno vinto per 9 a 0. Al termine del match ha parlato ai nostri microfoni il centrocampista Nicolas Viola. Sì, c'è sinergia, bisogna ritrovare l'entusiasmo che sta arrivando in base anche alle partite che stiamo facendo. Siamo molto felici di quello che stiamo facendo, del percorso fino ad oggi. Adesso inizia veramente un momento molto particolare dove c'è bisogno di tutti quanti. Quando passa l'allenatore cambiano tantissime cose, quindi è inutile poi parlare di quello che è stato. Io preferisco concentrarmi su quello che è in questo momento, anche perché ci stiamo giocando davvero tanto e quando si fanno questi campionati sappiamo tutti di avere delle difficoltà. Abbiamo capito quali sono i nostri limiti, li abbiamo migliorati e adesso ci concentriamo per il finale che secondo me, ripeto, è veramente fondamentale per noi, è veramente importante. Io penso che la partita di Perugia sia stata una partita, secondo me, chiave perché comunque abbiamo trovato delle sicurezze e della confattezza che abbiamo avuto anche in altre partite. Però la partita di Perugia è stata veramente bella sotto tutti i punti di vista. Poi in un campo ostico, quindi penso che la strada sia già tracciata. Ecco, sta a noi adesso dimostrare, ma più che dimostrare, non mi piace la parola dimostrare, sta a noi far vedere un po' quello che sappiamo fare ai play-off e sono un campionato a parte. Quindi chiunque poi entri nei play-off diventa una mina vacante. Noi vogliamo essere quella mina vacante. E questa è l'intervista al centrocampista realizzata da Francesco Areso. E non lasciamo lo sport perché ci occupiamo del Rally Italia-Sardegna. Manca poco più di un mese all'avvio della competizione, edizione numero 20. E anche per questa edizione, in programma dal 1 al 4 giugno, ci sarà un percorso a firma dell'ex campione del mondo, Tiziano Siviero, ed è stato scelto il quartier generale di Olbia. Sono 74 gli equipaggi iscritti alla gara organizzata dall'Automobile Club Italia, col supporto della Regione Sardegna e il contributo del Comune di Olbia, che ammonta a 270 mila euro. La nostra città, dice il sindaco Settimonizi, sarà sede del quartier generale del podio e del parco assistenza della manifestazione. Ed è tutto. Questa era l'ultima notizia, quindi mi fermo qui, ma vi invito a guardare le prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. TG Live, telegiornale regionale della Sardegna